Ezzelossi sta per mandare in campo l'argentino Carlos Marinelli, vuole dare ancora più vivacità, più qualità, più talento al suo gioco. Intanto Pesaresi dentro, attenzione, Marazzina, Rende! Marazzina! Torino in vantaggio, ventunesimo minuto. E questa è un'azione splendida, come sui libri, il tocco di De Ascenti, sovrapposizione perfetta per tempi e per inserimento di Pesaresi, è andato quasi sul fondo. Marazzina, Rende rigore, sinistro, Rende! Ancora Marazzina, 2-0, il colpo forse del K.O. del Torino sul Bari.